Sono Elisabetta Cattaneo, responsabile di struttura di Mater Sapienze. Mater Sapienze è una residenza sanitaria assistenziale situata nel cuore di Milano. È abitato in un edificio recentemente ristrutturato ed ha a disposizione un totale di 99 posti suddivisi in quattro piani. I 99 posti letto sono accreditati dalla Regione Lombardia e contrattualizzati da TS Milano. Dispone di 7 camere singole e 46 camere doppie. Accoglie ospiti sia autosufficienti che non per periodi di sollievo così come per periodi di emergenza. All'interno della struttura potete trovare anche un giardino con un'ampia frontale e camminamenti peronali. Oltre al giardino frontale, esiste anche un giardino posteriore da cui si accede attraverso una nominosa sala polifunzione. La nostra residenza si distingue per l'approccio multidisciplinare fornito dalla nostra tutta, che è composta dal direttore sanitario ed è invece di struttura. Dalla parte infermieristica e da quella assistenziale, puntiamo molto sull'attività fisioterapica ed edificativa. Offriamo servizi sociosanitari mantenendo il clima della struttura sereno e molto familiare.